bene ci siamo dopo uno di sei incredibile quest'oggi avete idea di quello che ho portato però ci siamo siamo pronti a spaccare dai grazie a tutti questa sera una serata speciale in quanto più che di letteratura parleremo di musica perché abbiamo ospite l'autore riccardo del maschio pianista diplomato al conservatorio che ha scritto questi 15 spartiti di pianoforte per bambini che ci farà conoscere questa sera grazie a tutti grazie a tutti come ho costruito queste 15 spartiti partendo principalmente dal nome stesso che ho voluto dare a questo libro o se cercano di partire da un sentimento un impulso quindi nel momento in cui ho pensato subito di base come idea di cercare di raccontare una storia la prima cosa che mi è venuta spontanea pensando cercando di fare un libro di bambini e allora ogni singolo brano ho cercato di comporlo in modo che potessero raccontare dei momenti di una giornata da scorsi da scorsi da bambina assieme alla famiglia assieme ad amici o in altre occasioni ognuno di questi titoli cerca anche di essere rappresentato a livello sentimentale anche sì perché no dalla musica che lo accompagna grazie a tutti 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 Grazie a tutti.